Sessore, sono passati dieci giorni dalla riapertura delle scuole dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria. Situazione, lo possiamo dire, tranquilla, sotto controllo? Sicuramente abbiamo una bella situazione. Ad oggi ormai sono trascorsi dieci giorni, non abbiamo nessun caso di positività in tutte le scuole che abbiamo a Pescara. Una novità positiva che abbiamo avuto è quella che abbiamo fatto lo screening nelle scuole medie la settimana scorsa. Su 1800 alunni che sono stati tamponati sono risultati positivi soltanto due bambini. Questa settimana abbiamo fatto lo screening alle scuole superiori e anche qua sembra che le cose non vadano molto bene. e chiuderemo questa settimana, sabato e domenica, lo screening alle scuole elementari, per le scuole elementari sabato e domenica. L'obiettivo è di arrivare al termine dell'anno scolastico. Assessore, diciamo, con una situazione che possa permanere così come quella attuale? Ci auguriamo sicuramente tutti di poter arrivare alla fine dell'anno scolastico in tranquillità. Però noi monitoreremo tutti i giorni la situazione con i presidi e anche con i genitori dei ragazzi. Siamo a dire che c'è stata una grande sinergia dall'amministrazione comunale, i dirigenti scolastici, gli studenti e anche i genitori degli studenti in quest'ultimo periodo. Allora, io sento i presidi giornalmente perché vuoi per un problema, vuoi per un altro. e stiamo facendo veramente, come dici tu, un lavoro molto molto sinergico. Quindi stiamo facendo veramente un ottimo lavoro.